Eccoci qua, buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 aprile, un po' più tardi del solito, ma i giornali oggi li ho letti un po' più tardi, mettiamola così. Cosa è successo sui giornali? Partiamo senz'altro dal Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera ha preso il testimone che idealmente il fatto e il Repubblica hanno costruito nelle settimane scorse, cioè la grande questione giudiziaria. Adesso il problema non sarà il pil che scende, non sarà la riapertura, non saranno le cure della malattia che sembra essere dimenticata, ma sono le case di riposo. E oggi offensiva dei PM, acquisite cartelle cliniche dei morti nelle due o tre case di cura lombarde più importanti, dove ci sono gli anziani. La Lombardia, domande inevitabili per la Gabanelli e la Ravizza, ce la devono spiegare Fontana e Gallera. Quindi il fondo del Corriere della Sera è dedicato al fatto che ci debbano spiegare qualche cosa Fontana e Gallera sulle morti nelle case di riposo. E poi ci sono i magistrati che sequestrano. Devo dire la verità che il magistrato che hanno posto lì come commissario è il più equilibrato di tutti i magistrati di Mani Pulite, quindi confido sulla correttezza e l'onestà intellettuale di Colombo. Ma il punto non è questo. Il punto è che Repubblica e il fatto che hanno iniziato la vicenda contro la Lombardia, l'hanno più o meno mollata in queste ore, perché nelle pagine dietro, voglio dire il fatto no, perché continua sempre, ma non si rendono conto che in questo momento, in tutto il mondo e soprattutto in tutta Italia, della cosa incredibile, perché se tu vai a leggere i giornali locali ti rendi conto che in tutta Italia sta succedendo questa roba qua. Vabbè, la verità ci racconta del fatto che siano state anche le case di cura toscane indagate dalle procure di Letto e di Prato, il che vuol dire che tutte le procure stanno indagando, e me stanno indagando proprio mentre c'è il casino all'interno della cosa. E' come se tu indaghi perché, come è successo, perché durante il terremoto dell'Aquila non si sono accorti quelli che si dovevano accorgere dei terremoti, secondo loro del terremoto. Li condannarono fino a sette anni, è lo stesso identico principio. Però qua c'è un sovrappiù, cioè politico contro la Lombardia. Devono rispondere gallera e fontana delle case di cura milanesi. Ovviamente se c'è qualcosa sbagliato ci sarà, uscirà, eccetera. Ma oggi il tema fondamentale politico straordinario è questo, quando in Toscana sta avvenendo la stessa cosa, quando nel Lazio abbiamo fatto un servizio che non abbiamo mandato in onda e che voglio mandare in onda. E' un disastro l'RSA Laziali, un disastro. Sapete come titola oggi il Daily Mail, il giornale popolare inglese fissato sulla sanità? 4.000 morti nelle case di cura inglesi a Londra. 4.000! Voglio dire, in tutto il mondo le case di cura hanno un problema con gli anziani, spesso che non stanno in buone condizioni, tant'è che sono lì e non sono in famiglia, e che sono più fragili ovviamente a questo coronavirus, cosa che ormai è innegabile. Forse l'unica cosa su cui vanno d'accordo i virologi è questa qua. Però il problema è che le risposte le devono dare fontana. E chiaramente prima c'è la via virologica e poi c'è la via giudiziaria al virus, la strage degli anziani, gongola il messaggero. Come lo stesso messaggero, basta leggere le sue pagine interne, nelle ultime settimane ci ha raccontato il disastro delle case di riposo lombarde. In Toscana, in Lombardia, in tutte le regioni c'è questo problema, ma il problema è di Gallera e di Fontana, che sono l'obiettivo ben individuato dal fatto e da Repubblica su cui il Corriere della Sera, a scarso, come possiamo dire, senza grandi idee, arriva. L'altro grande tema è lo scontro politico sul mess. E lì, guardate, ve la faccio chiaro, leggendo tutti quanti i giornali, quindi non perdete tempo. Berlusconi rivendica il mess, dice l'abbiamo iniziato a fare noi, poi ovviamente è cambiato durante Monti, perché è la cosa che lo stesso Monti ha scritto in una relazione tecnica, la potete vedere molto chiaramente sul mio sito, in cui vi racconto la storia per tabulas di questo mess pensato nel 2011, anzi prima del 2011, quindi imbastito prima, che si tratta di una banca che presta dei soldi, però le condizioni a cui li presta vengono cambiate nel 2012 con un trattato firmato da Monti e Moavero. E nella loro relazione tecnica, Monti e Moavero, cosa dicono? Ora abbiamo cambiato completamente il mess rispetto a quello che era nel passato. Lo scrivono loro, mentre continuano a dire che c'è una continuità. Sì, forse nel nome, ma nella sostanza no. Ma oggi qual è il punto? Il mess di oggi è ancora cambiato, una piccola parte, rispetto a quello formato da Monti, perché si sono accordati che ti danno i soldi per la sanità e per l'emergenza sanitaria e quei soldi non ti portano alla troica a strozzarti. Questa è nelle intenzioni. Poi bisognerà vedere. Berlusconi crede a queste intenzioni, Renzi crede a queste buone intenzioni, Zingaretti crede a queste buone intenzioni, quindi dice prendiamoli questi 35 miliardi di prestiti che ci fanno con il mess, invece il Movimento 5 Stelle Lega e Salvini e Meloni non ci pensano proprio. Nel frattempo Centeno, presidente dell'Eurogruppo, chiama il Corriere della Sera e si fa intervistare e dice beh ragazzi bisogna subito agire e soprattutto non esclude gli euro bond. Crimi invece, il capo politico del Movimento 5 Stelle, all'opposto di Berlusconi, Berlusconi parla sul giornale, Crimi parla sul fatto e dice dicendo sì al mess, Zingaretti mette in discussione addirittura la presidenza del Consiglio di Conte. Cioè su questo sono dritti, anche perché Conte ha detto in conferenza stampa che non vuole usare il mess. Chiaro? In tutto quel casino, la paradosso di quella conferenza stampa che attacca Meloni e Salvini per dire la stessa contata che Salvini e Meloni vogliono. Nel frattempo, in tutto questo scenario, usi il mess, non usi il mess, la procura fa le cause al Pio Albergo Trivulzio. Se sapete che cosa succede? Che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che l'Italia, non so se sia vero, se riusciranno a mantenere queste orribili previsioni, l'Italia perderà 9% di PIL. 9% di PIL. E noi qua facciamo le pippe al MES, alle procure e a Burioni. Poi ve ne parlo di Burioni, ai suoi medical facts. Qua noi siamo morti di fame. Se ne accorge anche l'avvenire che oggi si cita il virus della recessione economica. Questi sono fantastici. Fino a dieci giorni fa chiudiamo tutto, ammazziamo tutto e non facciamo aprire neanche il settore alimentare, eccetera. Poi quando perdiamo il 9% del PIL, che era una cosa che si capiva benissimo, perché noi abbiamo chiuso più degli altri, mentre noi chiudevamo le fabbriche e gli altri le tenevano aperte, in sicurezza o in non sicurezza, ma le tenevano aperte, noi fra un mese piangeremo sulle scelte che tutti i giornali, il giornale unico del virus, ha avallato nelle ultime settimane. Zitti e muti. Ma la cosa grave è che il Fondo Monetario Internazionale dice che l'Italia perderà il 9,1%, l'Eurozona il 7,5%, la Germania il 7%, e financo la Spagna avrà una riduzione del PIL inferiore a quella italiana. Allora, mi chiedo e vi chiedo, il punto non è se ha azzeccato le previsioni in termini assoluti, è che l'Italia resta sempre l'ultimo fanalino di coda della crescita economica in Europa e perderà ulteriori posizioni. Avrete meno soldi voi, meno sanità voi, meno servizi pubblici noi, avremo peggiore istruzione noi. L'istruzione, la sanità, la sicurezza, non la paga Babbo Natale, non la paga neanche l'Europa, la paga il PIL. E se il PIL diminuisce perché stiamo a sentire le minchiate del giornale unico dei virologi, probabilmente gli stessi virologi faranno un po' di affari, loro, ma noi no. Nel frattempo, ovviamente, dice, le nomine vanno avanti, l'unica nomina, l'unico che è stato fottuto è il capo di A2A, il presidente, l'amministratore di A2A, ma non da Movimento 5 Stelle, da Renzi, e scusatemi, del Bono, dal sindaco di Brescia, sindaco di Brescia, che vuole un brecciano, pensate un po' a voi, A2A, una società di 5 miliardi, vuole un brecciano alla guida di un'azienda da 5 miliardi, io vorrei un Andriese alla guida del Corriere della Sera, vorrei un Barlettano alla guida del Leni, questo è il criterio. Nel frattempo, il fatto, dice che Leni vedrà per la terza volta confermato Descalzi, che non piace a Movimento 5 Stelle, quindi, le nomine, il potere, le questioni, giustamente, che interessano soltanto le seconde file dell'informazione sono in corso, ma sulla questione, sulla questione dei soldi e dell'incapacità italiana, oggi, toc toc, Patuelli, questa foto, sai, ci sono le foto di Patuelli così, Patuelli è il presidente dei bancari italiani, dei banchieri italiani, brevissima persona, ex deputato liberale, uomo che conosce, che conosco, perché ero un giovane liberale quando lui era un vice segretario del partito, un po' a sinistra rispetto a me, ma comunque un grande liberale, però Patuelli è diventato e gli è corso di diventare presidente dei banchieri, si lamenta con noi giornalisti che dice siete tutti un po' dei cialtroni, perché lui adesso è diventato il grande banchiere, però noi cialtroni vorremmo darti un consiglio gratis, caro Patuelli, siccome oggi abbiamo letto il sole 24 ore, succederà un casino nelle banche, Patuelli, accorgitene, perché forse qua da Piazza del Gesù forse non te ne stai accorgendo, sai che cosa succede? Che tutti gli italiani con questa comunicazione fatta da Conte penseranno di poter venire alle banche e farsi dare 25 mila euro? Non è così, non funziona così, lascia perdere le otto pagine ridicole di documentazione che dobbiamo presentare per poter avere piccole imprese e 25 mila euro di prestiti, ma oggi il sole 24 ore dice una cosa che Patuelli forse tu dovresti sapere, sempre che sia vero il sole 24 ore, e dice che il fondo di garanzia, cioè io vado dalla banca, gli chiedo 25 mila euro, la banca in maniera piuttosto semplice me li dovrebbe dare, perché sa che è garantita dallo Stato, ma lo Stato che cosa ha detto, sai quanto può garantire Massimo? 300 mila prestiti, 300 mila prestiti media 15 mila euro, capito? 300 mila, 4 milioni di piccole imprese, a dire poco, solo 300 mila potranno avere un prestito medio di 15 mila, ma se i prestiti sono superiori e diventano di 25 mila, saranno 200 mila quelli possibili da garantire, chiaro Patuelli? Quindi, quando ti metti qua braccio a concerte, sai che cosa dovresti fare? Dovresti dire, ragazzi, noi rischiamo che lo Stato ci ha preso per il culo, Patuelli, magari dirlo pure in termini un po' più eleganti, però, se no, la gente se le prende con le tue banche, lo dico perché io lo vedo, c'è quest'odio nei confronti delle banche, ancora non mi hanno detto niente, le banche sono degli intermediari di soldi che devono arrivare dallo Stato alle piccole imprese, ma se lo Stato non garantisce le banche, le banche non potranno prestare a babbo morto 4 milioni di piccole imprese, ci arriva un bambino piccolo, perciò, se questa cosa non la fate capire bene, vi ritorna come un boomerang, ma Patuelli probabilmente a braccia concerte seguirà in maniera felpata domani un'intervista sul Corriere della Sera, nel frattempo non a braccia concerte, ma cazzuto, Miciche, ex banchiere, oggi fa un'intervista al Foglio straordinaria a Cerasa e dice ragazzi dobbiamo iniziare perché subito siamo già in ritardo, la Germania e la Spagna hanno iniziato prima di noi, i loro consumi elettrici sono superiori ai nostri che sono la proxy consumi elettrici della capacità di un'industria di andare avanti perché nel Lazio perché dice si deve tenere chiuso nel Lazio dove i contagi sono dello 0,06% della popolazione e si deve tenere come in Lombardia, questo chiede Miciche e Miciche ha ragione da vendere e Miciche è uno di quei banchieri che conosce le aziende, conosce le imprese, sa cosa vuol dire mandare in cassa integrazione 500 persone, però noi siamo qua che pensiamo ai nostri 300 consulenti ed è il pezzo fenomenale di Sallusti sul giornale in cui fa l'elenco di tutti i consulenti che si è preso Conte perché io pensavo che fosse l'ISS cioè l'Istituto Superiore della Sanità pensavo che fosse il Consigliere Superiore della Sanità pensavo che fosse soltanto la protezione civile che fosse Arcuri che fosse Colao che fossero le task force per l'applicazione che dovrebbe arrivare fra un mese no perché tutti questi comitati si fanno i loro comitatini Arcuri quello che dovrebbe trovare le mascherine e non le ha trovate beh Arcuri si è fatto il comitato scientifico di 36 persone 39 persone che lavorano con Arcuri per consigliare Arcuri che dovrebbe fare il commissario straordinario è un paese di consulenti 300 pagati tutti quanti da noi fantastico cos'era questa questa aumentano vabbè come si dice Repubblica oggi molla diciamo la tesi giudiziaria che prende con una ideale staffetta il Corriere della Sera contro la Lombardia e contro le RSA della Lombardia e dice ripartenze siamo indietro se ne accorge anche Repubblica il giornale unico del virus sta un po' cambiando come possiamo dire pelle ma questa pelle che sta cambiando il giornale unico del virus in realtà sotto è esattamente come nel 93 94 come lì c'erano come si chiama i magistrati che dettavano legge oggi ci sono i virologi io vi dico e vi leggo un pezzo fatto da Massimiliano Lenzi oggi sul tempo che riguarda questo sito Medical Facts che è la Bibbia di Burioni Burioni lo conoscete è quello che va sempre da Fazio è quello che ha una grandissima considerazione di sé io ho letto dei messaggi pazzeschi che lui fa su Twitter nei confronti di chi osa minimamente di sentire dalla verità unica di Burioni al quale bisognerebbe fare toc toc Burioni ma non eri quello che diceva che in Italia da Fazio non poteva arrivare sto virus no no perché poi voglio dire quando gli altri sbagliano sono decornuti quando sbaglia Burioni invece è un fenomeno Burioni era quello che diceva certi medicinali non servivano fa benissimo e poi si è capito che servono cioè io mi chiedo come di tutti questi qua non so quanto sia efficace ma certamente mi sembra più efficace della presenza in ospedale di tutti questi fenomeni perché ancora non abbiamo trovato una cura non solo in Italia per carità ma detto questo perché non voglio criticare nessuno perché un virologo si occupa del virus invece loro si occupano della società e in una di queste questioni spiega oggi Lenzi per evitare danni potenziali sia di allerbismo sia di eccessiva sottovalutazione è necessario una condivisione strategica condivisa con l'ordine dei giornalisti e con i maggiori quotidiani e le radio e tv sostanzialmente ci spiega Lenzi che i virologi vogliono fare una specie di accordone per dire le cose che si possono dire e quelle che non si possono dire riguardo alla virologia avete capito? vogliono l'accordone ma chi sei? Burioni chi sei? chi ti ha eletto? quando abbiamo stabilito che tu sei il nostro Savonarola? quando io ti ascolto all'università perché devo prendersi insegni non lo so forse insegna ti ascolto nell'ospedale ma a casa mia tu non decidi nulla Burioni tu sei uno dei tanti scienziati che come tutti gli scienziati avranno una teoria falsificabile Popper lui non sa non gli entra neanche nel cervello soltanto la sua arroganza narcisistica entra nel cervello io non voglio far sì che il mio pezzo sia controllato da un comitato di medical facts vi è chiaro? il mio pezzo non viene controllato dal medical facts se no io avrei dovuto scrivere un pezzo due mesi fa seguendo Burioni dicendo che non c'era rischio del virus in Italia perché è quello che ha detto Burioni avrei dovuto dire che certe medicine erano controproducenti e poi è iniziato invece la sperimentazione Burioni ritorna a casa tua spero che sia all'ospedale che è la casa dove dovremmo stare tutti quanti noi specializzati in medicina e non nei salotti televisivi a pontificare io non invito più di questi qua invito soltanto quello che mi serve per il dettaglio sono diventati i nostri Savonarola Ricciardi oggi sul mattino riaperture con criteri severi io ve la dico qua perché ne sono convinto sono convinto sapete cosa succederà in questo paese? io ve lo dico e ve la scrivo qua segnatevi la data come abbiamo scritto qua nella zuppa il giornale unico del virus che si sta smontando sapete cosa scrivo in questa zuppa? questo paese nei prossimi mesi sarà talmente vittima di questi virologi che noi aggiungeremo burocrazia a burocrazia impedimenti a impedimenti i bar dovranno mettere distanze che nessun altro bar al mondo avrà perché noi saremo vittime di medical facts cioè l'idea che il rischio zero sia la nostra fondamentale condizione di vita rischio zero purtroppo non c'è dovremo affrontare il problema secondo me in maniera laica ma invece qua se tu pensi che medical facts vuol decidere con i giornali cosa scrive contro con l'ordine dei giornalisti siamo impazziti per fortuna che oggi c'è Lenzi che è l'unico che secondo me lo tratta con interesse sul giornale l'altro ultimo pezzettino che io vi segnalo è quello di Mattia Feltri che prende in giro Boccia il ministro Boccia io lo conosco da tempo è pugliese come me ma come si fa a dire dio denaro cioè chi vuole la riapertura è fissato col dio denaro ecco questo Burioni Boccia dio denaro farà sì che quel PIL 9,1% in diminuzione se questi non li mettiamo in un angolo diciamo non gli facciamo capire che forse loro ecco sono pagati con i soldi nostri Boccia Burioni compagnia cantante beh questo PIL altro che 9,1% meno 15% arriviamo bene qui quando qualcuno di voi dice dobbiamo uscire dall'Europa dobbiamo uscire da questi cioè è peggio chi pensa dio denaro che è un'Europa che non ti vuole prestare i soldi è peggio uno come Burioni che vuole il controllo della stampa che è un'Europa fatta da olandesi che rompono le balle in maniera insopportabile come fanno o no secondo voi pensate mettetele tutte in linea le cose una e l'altra cosa e pensate chi ci fa peggio la nostra burocrazia o quella europea che fa oltrettanto schifo io una risposta ce l'ho ciao